Buonasera gentili amici ed amiche di Fanner, un cordiale saluto che vi giunge dallo Sport City dove stiamo per raccontarvi l'incontro tra l'Italia Calcio ed M. Servizi Gianicolo che nel gelo di Trigoria si affrontano nella diciassettesima giornata del campionato di serie A della Lega Calcio A8. Le due squadre hanno portato a termine le operazioni preliminari all'inizio della gara che sono andate disponendosi nelle rispettive metà campo, l'Italia attaccherà da sinistra verso destra nella prima frazione, da sinistra verso destra, dei vostri teleschermi tenuta completamente verde per la formazione dell'Italia, attaccherà invece da destra verso sinistra l'M. Servizi Gianicolo del Presidente Villari che invece è anch'essa in tenuta classica, quella bianca e rossa a strisce orizzontali dunque proverà a rendersi pericolosa nella direzione opposta rispetto a quella nella quale saranno portati a termine gli attacchi della formazione dell'Alitalia. La gara è iniziata in questo istante con l'Alitalia che fraseggia il primo pallone della gara l'Italia reduce dalla sconfitta per 2 a 1 all'ultimo secondo contro la Ragnatela Pab mentre l'M. Servizi Gianicolo è reduce da un pareggio maturato qui allo Sport City un pareggio di lusso maturato nei confronti del Cotton Club capolista attenzione subito al pallone di Proietti spostato sulla destra Cotton Club dunque frenato dall'M. Servizi, attenzione al pallone perso sulla tre quarti all'Italia in avanti con la conclusione da parte di Masciangelo e attento Proietti quando sono 37 i secondi sul nostro rinometro primo squilo della gara lo porta Masciangelo per l'Alitalia attenzione dall'altra parte prova a replicare l'M. Servizi Gianicolo con il pallone che ora transita tra i piedi di Severini che non sa a chi servirlo però allora torna da Merlonghi Merlonghi si accentrava al destro non perfetto l'intervento di Calcaro e spazza la difesa in qualche modo rimessa con le mani per l'M. Servizi Gianicolo che attaccherà quindi ora dall'out di sinistra il pallone giocato sui piedi di Severini che va dal numero 15 Merlonghi che apre sulla destra c'è un pallone perso in mezzo di prima e il colpo di testa da parte di De Santis non trova la porta ancora una volta pericolo scampato per Calcaro ma è un M. Servizi che ha partito con il piede pigiato sull'acceleratore attenzione ora al retropassaggio di Balzani per Proietti che rinvia di prima intercetta la difesa dell'Alitalia che può proporsi sulla destra il tocco è centrale allora ancora la formazione in maglia verde cerchio di centrocampo c'è un intervento scomposto ma corretto su Barillaro che poi si appoggia sul Ligios che gli rende il pallone ancora Barillaro l'è finita in mezzo a due bene Barillaro si accentra ce l'ha sul mancino va da Novelli che scarica il destro rientra può provare ora c'è la conclusione che arriva solo ora viene frenata e rimpallata dalla difesa dell'M. Servizi Genico l'aveva provato Novelli difensore goleador dell'Alitalia senza fortuna perde forse un attimo di troppo il numero 4 che ora si incarica dell'esecuzione della rimessa con le mani e lo fa servendo Sascha Taroni attenzione poi il pallone dalla destra messo in mezzo e c'è il vantaggio di Barillaro passa l'Alitalia al terzo minuto dimenticato dalla difesa dell'M. Servizi Barillaro con il destro porta in vantaggio la formazione in maglia verde 1-0 allo Sportiti i pericoli portati dall'M. Servizi Gianicolo il primo gol però che per ora è quello che conta è di Barillaro attenzione ora alla battuta diretta dal cerchio di centrocampo dell'M. Servizi senza fortuna allora all'Alitalia che può riproporsi con la propria terza linea il tocco è ancora nella propria metà campo per i calciatori in maglia verde c'è il lancio di Taroni dell'altro Taroni in campo Giordano in maglia numero 7 che non trova nessuno e si perde dunque tra le braccia di Proietti Proietti che ha già rimesso in gioco e allora è De Santis che retrocede a sua volta da Balzani alza la testa il numero 23 che gioca centralmente per Alessandro Corsi ancora per Balzani l'apertura di prima chiude Novelli il pallone rimane lì attenzione all'M. Servizi con la chiusura su Severini ancora la formazione in maglia bianco-rossa con il numero 15 poi si chiude in qualche modo la difesa dell'Alitalia con Sascia Taroni e può dunque proporsi sulla corsia opposta alla nostra postazione ancora la formazione padrona di casa con il pallone spostato sulla destra per Alessio Ligios che poi va al cambio di fascia dalla parte opposta per Barillaro è contrato in qualche modo dalla formazione ospite chiedo scusa e allora è il numero 10 Severini in posizione d'ala che serve lo sganciamento di un compagno ma è bravo è bravo Calcaro a capire tutto con un attimo di anticipo e anticipare l'avversario proiettato verso la porta attenzione a questo fraseggio difensivo dei ragazzi in maglia verde il pallone ancora una volta in possesso dei padroni di casa c'è però un fischio del direttore di gare dunque un calcio di punizione che sarà per l'M Servizi Gianicolo quando siamo al quinto minuto del primo tempo attenzione a Merlonghi tre quarti campo il numero 15 serve ora Severini attaccato da un avversario deve perdere un paio di metri il numero 10 mette a terra un avversario si continua a giocare Balzani le finte si sgancia sulla sinistra il tocco per un compagno anticipato dagli avversari allora può ripartire ancora l'Italia solo per un attimo ancora Corsi si va a sgomitare con un avversario il pallone è proprio per Corsi era stato Severini a cercare l'imbucata non trova però il numero 11 pallone troppo lungo lo recupera lo recupera Calcaro che fa ripartire sulla sinistra Novelli Novelli va da Barillaro che si è spostato sulla sinistra dopo aver trovato il gol dell'1-0 sulla fascia di destra il numero 10 dell'Italia ancora formazione in maglia verde con il pallone giocato sull'Iggios di prima intenzione ancora Barillaro che taglia il campo e torna sull'out di destra ancora Barillaro le finte scambia con l'Iggios Barillaro dal fondo va al destro pallone che si perde sull'esterno della rete Topro Ietti con le mani va subito da Severini che la lavora con l'esterno il tocco è centrale per Corsi chiude Novelli che fa ripartire l'Italia il tocco questa volta è per Masciangelo che vede l'inserimento di Novelli tutto solo Novelli Novelli palo golla rischiamo di toccare il pallone in realtà il pallone entra direttamente in rete Novelli sta di fatto che raddoppia l'Italia sull'invenzione di Masciangelo Novelli con un tocco morbidissimo supera Proietti e 2-0 all'Italia allo Sporsiti dunque pallone che dava quasi l'impressione di voler accarezzare il palo e invece si perde direttamente in fondo al sacco avvio shock per l'M Servizi ora prova a rendersi pericoloso sull'out di destra ma c'è l'ottimo recupero della difesa dell'Italia che poi ora poteva andare ma c'è un duro contrasto attenzione poteva andare in avanti c'è un duro contrasto non cattivo ma comunque irregolare e il primo cartellino giallo della gara che arriva al settimo minuto del primo tempo calcio di punizione per l'M Servizi Gianicolo intervento ineccepibile del direttore di gara su un intervento come dicevamo scomposto ma comunque non cattivo c'erano i presupposti per il controvedere dell'Italia attenzione a Corsi che guadagna un altro calcio di punizione questa volta da posizione molto più invitante quasi al limite dell'aria il tiro libero conquistato dal numero 11 dunque una ghiotta chance per l'M Servizi Gianicolo per riaprire la gara sul pallone va Luca Severini che probabilmente scaricherà con il destro verso la porta di Calcaro il direttore di gara va a posizionare la barriera alla giusta distanza quattro gli effettivi della l'Italia a comprare il muro difensivo a protezione di Calcaro dunque si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva ora c'è il destro in porta e il salvataggio sulla linea scampa il pericolo la l'Italia solo per un attimo poi completa il disimpegno e può riprovarsi in avanti la formazione in magna verde con il pallone è giocato lungolina per Masciangelo che si libera bene attenzione al numero 11 Masciangelo col mancino proietti la fassua riparte l'M Servizi con Merlonghi che apre sulla destra allora è da quella parte che attacca la formazione in maglia bianco rossa attenzione al destro in porta e il gol del 2-1 di De Santis ancora una volta sfugge ai radar difensivi dell'Alitalia il numero 2 e questa volta fa centro riaprendo la partita al nono minuto all'Italia 2 M Servizi Gianicolo 1 partita che ha avuto un inizio scoppiettante allo Sport City 10 minuti sul nostro cronometro 3 gol 2 per l'Italia 1 per l'M Servizi Gianicolo attenzione ora al numero 5 Ligios che si accentra apre per Novelli sulla sinistra al numero 4 alza la testa si defina col mancino il tocco è per un compagno che però poi sbaglia il secondo passaggio allora può ripartire l'M Servizi Gianicolo con la sventagliata sulla sinistra a cercare il numero 10 Severini che poi viene chiuso in fallo laterale e anche l'ultimo a toccare e dunque la rimessa con le mani è per l'Alitalia il tocco è per Daniel Bacchi che poi però commette fallo Bacchi che con 5 reti e il capo cannoniere dell'Alitalia questa volta in realtà più che commettere fallo si è portato il pallone oltre la linea che delimita il laterale allora Severini il tocco è centrale per Merlunghi che prova il destro deviato e porta a casa un corner corner che sarà battuto da Cordopatri dalla sinistra di Carcaro va al numero 88 sul primo palo ce l'ha girata e il miracolo di Carcaro ancora in corner De Santis il tocco è per un compagno pallone verso e mezzo il pallone rimane la Cordopatri poi si accontenta della rimessa con le mani già battuta ancora Severini tre quarti campo attaccato da due avversari salta il primo non il secondo allora può ripartire il contropiede dell'Alitalia c'è un velo che però viene tenuto in campo da un calciatore dell'Alitalia si continua a giocare allora è la formazione maglia verde con Barillaro che apre sulla destra può attaccare da quella parte Ligios il tocco è intercedito ancora M servizi con Merlonghi però gioca un pallone troppo lungo per i compagni e dunque nulla di fatto si salva Calcaro mentre dall'altra parte il tocco di Masciangelo non trova nessuno e allora ancora M servizi Gianicolo che ora con Severini dall'auto di destra va sul fondo il numero 10 la mette in mezzo c'è un tocco si continua a giocare tutto regolare non ravvisa gli estremi del fallo il direttore di gara allora ancora Merlonghi della destra prova il destro Merlonghi un ripallo Corsi non trova la girata poi il pallone forse non esce ma sta di fatto e poi viene scaramentato in fallo laterale da un calciatore proprio dell'M servizi e quindi ribadiamo il parziale che vede l'Alitalia in vantaggio per 2 a 1 mentre viene chiamato un time out dei panchini e ci fermiamo per qualche istante si sta per riprendere a giocare allo Sport City di Trigoria diciamo l'Alitalia in vantaggio per 2 a 1 sull'M servizi Gianicolo quando siamo a Riede al dodicesimo minuto del primo tempo e mentre la difesa dell'M servizi va a completare un disimpegno c'è poi un intervento falloso ai danni di un calciatore dell'Alitalia dunque calcio di punizione per la formazione padrona di casa l'Italia che ha quota 9 punti in classifica portando a casa questa vittoria una partita che è ancora agli albori e dunque ancora lunghissima ma centrando la vittoria aggancebbe il mister Jeff ma attenzione torniamo in cronaca Barillaro scambia con un compagno che poi gli rende un pallone di ritorno troppo lungo però era stato Sascha Taroni a sbagliare la misura del passaggio dunque nulla di fatto per questa azione offensiva dell'Alitalia ma attenzione al pressing di Barillaro che però è falloso e viene sanzionato dai direttori di gara con un calcio di punizione per l'M servizi Gianicolo che gioca il pallone nella propria metà campo con ora la sfera giochata lunga su corsi che non riesce a trovare Severini e può ripartire dunque l'Iggios per l'Alitalia l'Iggios scambia con un compagno poi Masciangelo non arriva sul pallone e può ripartire dunque ancora la formazione ospite c'è fallo ora ancora dei calciatori dell'Alitalia questa volta era stato Novelli a intervenire in maniera non regolamentare su Severini dunque calcio di punizione per l'M servizi Gianicolo anche in questo caso decisione inercepibile del direttore di gara anche perché il rumore del piede di Novelli sull'avversario si era sentito in maniera piuttosto nitida dunque calcio di punizione per l'M servizi Severini sul punto di battuta parte ora il numero 10 direttamente in porta e ancora una volta sulla linea un difensore dell'Alitalia rimessa con le mani per l'M servizi attenzione a Merlonghi il tocco è per Severini ancora il numero 15 che lascia scorrere pallone giocato sul secondo palo libera Novelli M servizi che dopo il gol del 2 a 1 di De Santis sta chiaramente forzando i tempi cercando di trovare il gol del 2 pari attenzione ora dalla destra la formazione in maglia rossa le finte di Severini che poi la mette in mezzo di punta spazza la difesa dell'Alitalia allora da quest'altra parte può ripartire però ancora la formazione in maglia rossa attenzione a De Santis lui che la gara all'aria aperta è un'Alitalia che ora fa fatica a proporsi anche in contropiede perché attenta la marcatura montata su Masciangelo che dunque non ha possibilità di lavorare da pivot permettendo alla propria squadra di salire attenzione a Balzani il tocco è centrale per Merlonghi la finta di corpo lascia Severini le finte anche del numero 10 che ora però non sa a chi giocarla potrebbe tornare da Merlonghi in realtà si defila ancora Severini un passaggio un po' forzato sulla destra poi il pallone messo in mezzo spazza la difesa dell'Alitalia Masciangelo alza troppo la gamba e concede in realtà il calcio di punizione sì è per l'M Servizi Gianicolo sarebbe stato strano il contrario ma Masciangelo aveva preso il pallone attenzione al destro di Merlonghi che si perde alto già battuta la ripresa del gioco da parte di Calcaro dunque Alitalia che fraseggia con il pallone scucchiaiato in avanti attenzione ancora al pallone messo in mezzo era una chiotta chance per Bacchi ma Proietti ripara ancora M Servizi questa volta è alto il pressing dell'Alitalia induce all'errore la formazione ospite attenzione ora ritorno proprio di Bacchi in palleggio subisce forse fallo si continua a giocare allora ancora Ligios chiedo scusa ancora Taroni con la maglia numero 8 ricomincia dalla propria terza linea c'era un fraseggio per vie orizzontali della formazione in maglia verde che va la sventagliata per Masciangelo che si gira in un fazzoletto Masciangelo si difende dall'attacco di due avversari ricomincia da Ligios che va a sua volta da un compagno vediamo come verrà giocato questo pallone dalla formazione padrona di casa c'è un buon lancio in avanti spezza la difesa dell'M Servizi ora può ripartire con l'azione condotta sulla sinistra sull'inserimento di De Santis un pallone quello di Merlonghi leggermente troppo lungo e dunque Ligios si occuperà di andare alla rimessa con le mani per l'Italia l'Italia che dopo un avvio che abbiamo definito shock per Gianicolo sta un po' stubbendo il ritorno degli avversari attenzione a Severini apre sulla destra c'è il pallone messo in mezzo e Corsi ha un'esitazione di troppo si continua a giocare spazza la difesa dell'Italia attenzione a Masciangelo che la controlla bene in mezzo a tre c'è lo sganciamento di un compagno il numero 10 Barillaro non può servirlo Masciangelo che torna ora dal numero 2 Bacchia ancora in avanti la formazione in maglia verde con il destro schiacciato da parte di un calciatore dell'Alitalia Proietti devia in corner corner per l'Alitalia se ne occuperà Novelli che andrà dalla bandierina dalla destra di Proietti con l'interno a rientrare gioca corto e Bacchi poi con il tacco non riesce a deviare viene chiamato un altro time out dalle panchine dunque ci fermiamo per qualche istante si sta per riprendere a giocare allo Sport City di Trigoria dove l'Alitalia Calcio conduce per 2 a 1 sull'M Servizi Gianicolo formazione in maglia verde che si era portata sul 2 a 0 grazie a una partenza fulmina e ha poi dovuto subire il ritorno della formazione in maglia bianco-rossa che ora va alla sventagliata per Severini che però controlla male e concede una rimessa dal fondo a Calcaro che osserva il dispiegamento dei propri compagni sbaglia il rinvio e allora intercetta ancora Balzani per l'M Servizi Gianicolo ricomincia da un compagno la gioca nella propria metà campo con Merlonghi la formazione in maglia bianco-rossa si accentra al numero 15 che ha un buon destro lo prova Merlonghi lo mura Sascia Taroni dunque la tush è per il Gianicolo attenzione ora ancora una volta per vie centrali la formazione di Villari il gioco smistato sulla destra c'è un cross teso spazza la difesa dell'Alitalia si continua a giocare il pallone non è uscito ora si copre l'uscita del pallone l'M Servizi che ora si propone per vie centrali c'è l'imbucata per Corsi il palleggio del numero 11 Corsi entra in area e ancora una volta si salva l'Alitalia per la formazione in maglia bianco-rossa battuto sul primo palo vediamo Merlonghi contrastato con successo da parte della difesa dell'Alitalia che ora può provare a riproporsi ma è chiuso da due avversari il numero 7 Giordano Taroni che però porta a casa un calcio di punizione evidentemente non regolamentare il pressing confessio dei due avanti del Gianicolo ora la sventagliata su Barillaro che la controlla dotato di un'ottima tecnica il numero 10 va sul secondo palo dove Bacchi di testa non trova la coordinazione per il terzo tempo anche perché è contrastato da un avversario e dunque può solo sfiorare un pallone che si perde sul fondo è già ripartito il Gianicolo con la sventagliata lunga per De Santis che la controlla in maniera non perfetta poi c'è il recupero di Giordano Taroni che lo costringe a una rimessa vediamo se però ci sarà l'intervento del direttore di gara in realtà no dunque si riprende con le mani già battuta la rimessa attenzione a Merlonghi si fa trovare sempre libero il numero 15 ma attenzione a Severini entra in era Severini la mette in mezzo e c'è il calcio di rigore calcio di rigore per l'Alitalia per il tocco di mano sul cross da parte di Severini ed è dunque un episodio che potrebbe diventare molto importante nell'equilibrio della gara calcio di rigore per l'M Servizi Gianicolo sul punto di battuta va ovviamente Luca Severini che ha sul dischietto la palla per il quattordicesimo gol in campionato ma cosa ancora più importante la palla del 2 a 2 è Calcaro contro Severini ovviamente proteste dei calciatori dell'Alitalia per l'intervento del direttore di gara che però sembrava anche in questo caso ineccepibile dunque Severini è Calcaro occhi negli occhi il numero 10 è il numero 1 del Gianicolo e dell'Alitalia è un momento topico della gara ma Severini con il destro 2 a 2 nel primo tempo completa la rimonta il Gianicolo al ventiduesimo minuto è 2 a 2 con il quattordicesimo gol in campionato di Luca Severini e dunque Gianicolo che come dicevamo riesce già nei primi venticinque minuti a completare l'operazione rimonta e proverà ovviamente nel secondo tempo a mettere la freccia attenzione ora ancora l'Alitalia con Masciangelo si appoggia a un compagno c'è il destro da parte di Bacchi che esce a lato ma non di molto riparte il Gianicolo dunque dopo il destro di dopo il destro chiedo scusa di Daniel Bacchi ancora una volta da questa corsia la formazione maglia rossa lo scambio tra corsi e De Santis si oppone con il corpo Giordano Taroni non c'è nulla anche se era sembrato piuttosto ruvido l'intervento del numero 7 ha qualcosa da ridire in effetti De Santis portato alla calma dal direttore di gara sull'intervento di Giordano Taroni che con la spalla era andato a contrastare il diretto avversario dunque dopo qualche protesta del numero 2 sembra comunque ricomporsi la situazione la gara comunque molto corretta allo Sport City ha un paio di contrasti duri ma comunque di gioco e non cattivi un po' di malizia in questo caso da parte di Giordano Taroni ci poteva stare il calcio di punizione di questo avviso non è stato il direttore di gara ed è quello che conta mentre dall'altra parte arriva il fisico del direttore di gara per l'intervento di Valerio Ciuffa su un calciatore dell'Alitalia dunque sul finire della prima frazione la formazione padrona di casa porta a casa un calcio di punizione dalla tre quarti media distanza rispetto alla porta di Proietti e ovviamente si cercherà la battuta diretta nello specchio della porta del Forte calciatore in maglia numero uno dell'M Servizi Barillaro sul punto di battuta andrà lui con il destro cercando di aggirare anche una barriera composta da tre effettivi dell'M Servizi Gianicolo attenzione al destro di Barillaro in porta si infrange sul muro non arriva in porta il tentativo del numero 10 mentre non arriva sul pallone però nemmeno nemmeno Cordopatri per il Gianicolo e dunque la rimessa è per l'Alitalia attenzione ora a Taroni che ricomincia dal fratello in maglia numero 7 Giordano che si accentra palla a piede sbaglia il controllo e perde la sfera e la può ripartire solo per un attimo il Gianicolo perché poi Giordano Taroni atterra De Santis e qui Corsi aveva la curina in bocca perché aveva una prateria davanti è interrotto dal direttore di gara che non aveva autorizzato la ripresa del gioco attenzione a Merlonghi il tocco dentro e poi Corsi cerca un tocco con l'esterno che però non trova compagni il pallone sfila oltre la linea che delimita la fine del campo e il gioco viene fatto riprendere dall'Alitalia con il rinvio controllato in qualche maniera da Masciangelo è duro il tocco di De Santis attenzione si continua a giocare mentre però sembra essere piuttosto dolorante il numero 11 Masciangelo colpito duro da De Santis arriverà probabilmente il cartellino giallo del direttore di gara colpito alla caviglia l'attaccante dell'Alitalia vediamo se il direttore di gara prende provvedimenti accetta le scuse e dunque un altro calciatore che finisce sul tacchino del direttore di gara proprio mentre arriva il duplice fischio del direttore di gara è 2 a 2 tra l'Italia Calcio e il servizio Gianicolo dopo il primo tempo si riprende a giocare allo sport di Trigoria dopo i primi 25 minuti dopo i primi pirotecnici 25 minuti 2 a 2 tra l'Italia Calcio ed M servizi Gianicolo al doppio vantaggio dei padroni di casa risponde la rimonta nel finale di frazione della formazione ospite dunque un primo tempo scoppiettante un secondo tempo tutto da vivere una gara che vede due compagini in lotta per obiettivi sulla carta differenti ma torniamo in cronaca con il tocco per Cordopadri che la mette in mezzo era un bel pallone quello del numero 88 non ci arriva nessuno nulla di fatto e allora Calcaro può far riprendere l'azione dei suoi attenzione al numero 4 Novelli che si autolancia scambia con Bacchi che perde il pallone allora può ripartire il Gianicolo attenzione a Severini che salta il primo avversario si defila ne salta un altro Severini va sul fondo il numero 10 la mette in mezzo un pallone sporcato sul quale interviene la difesa della L'Italia che può ripartire in contropiede attenzione a Barillaro che come al solito lavora su tutto il fronte offensivo attenzione ancora dall'altra parte al destro da parte di Masciangelo proietti la controlla pallone è ancora non uscito secondo tempo che è ripartito senza soluzione di continuità allora ancora Gianicolo con Merlonghi il tocco è per un compagno Severini che subisce fallo dunque il numero 10 porta a casa un altro calcio di punizione anche in questo caso il tocco dei difensori della L'Italia era piuttosto evidente dunque ne discende un tiro da fermo con il quale o per mezzo del quale i calciatori del Gianicolo cercheranno subito di trovare il gol del 3-2 che completerebbe a tutti gli effetti la rimonta in una partita che gli avvesti partire con handicap quando siamo arrivati al terzo minuto c'è il destro che si infrange sul muro ancora un tentativo dalla tre quarti che si perde alto sopra la traversa dunque pericolo scampato per Calcaro che dunque poi si fa restituire il pallone mentre torna sul terreno di gioco il calciatore in maglia numero 18 per la L'Italia mentre si stava involando Barillaro ma c'era un fischio del direttore di gare allora chiedo scusa allora calcio di punizione per la formazione ospite battuto ora corto il calcio di punizione Gianicolo che dicevamo è reducito dal bel pareggio contro il Cotton ma ovviamente aveva ed ha tuttora l'intenzione di portare a casa l'intera posta in palio in una partita che sulla carta lo vede favorito attacca torniamo in cronaca sulla destra la L'Italia con Barillaro attaccato un avversario si accentra il numero 10 perde palla non c'è fallo può ripartire allora ancora Severini per il Gianicolo Severini si accentra Severini c'è sul destro il tocco dentro il pallone rimane là poi c'è il tocco su Corsi ma non c'è nulla e il pallone termina in fallo di fondo e la Calcaro si appoggia su un compagno attenzione ancora Masciangelo c'è il gol del 3 a 2 Masciangelo con un pallone che dà l'illusione ottica di essere uscito ma in realtà termina in fondo al sacco al quarto minuto Masciangelo riporta in vantaggio l'Alitalia colpisce il calciatore in maglia numero 11 battuta subito la ripresa del gioco con il pallone giocato per Severini cerca il dribbling sul primo avversario messo a terra in maniera non regolamentare il calciatore meglio numero 10 c'è un altro calcio di punizione dunque ancora una volta Gianicolo che potrà rendersi pericoloso anche se da distanza piuttosto importante Severini proverà col destro verso la porta di Calcaro ma come dicevamo la distanza è quasi proibitiva poi potrebbe puntare ovviamente a qualche deviazione di un compagno il destro di Severini in realtà termina direttamente sul fondo non c'è deviazione alcuna e dunque rimessa con le mani per l'Alitalia già battuta con il pallone fraseggiato nella propria terza linea dalla formazione in maglia verde che poi lo sparacchia in avanti lo controlla in qualche modo Masciangelo e poi con il tacco trova Barillaro Barillaro le finte del numero 10 si accentra Barillaro col destro un 6 in 1 che si schianta sul palo dall'altra parte il contropiede del Gianicolo con la difesa della Ritalia che spazza ma che gol stava per fare Barillaro attenzione a Masciangelo prova ancora il numero 11 apre sulla destra per il piccolo numero 10 che con l'esterno destro tocca per un compagno ancora Taroni per l'Alitalia era stato Sasha Taroni in maglia numero 8 a cercare l'iniziativa personale viene messa a terra la punizione il vero di Masciangelo ci arriva allora il numero 2 Bacchi che poi torna ancora da Barillaro che ricomincia da Taroni che apre bene sulla destra da quella parte può rendersi pericolosa c'è l'azione che dal fondo non riesce a trovare una prosecuzione pericolosa allora Proietti dall'altra parte per il Gianicolo può far ripartire Severini Severini percorsi vediamo se la tiene in campo così è il numero 11 torna da Balzani attenzione al numero 23 ce l'ha sul mancino non è il suo piede traccheggia e attende l'inserimento di un compagno Severini che però non ha il campo per andare al dribbling che allora è chiuso dal rientro della difesa dell'Alitalia che poi rischia di recuperare un pallone pericolosissimo con Bacchi dall'altra parte il Gianicolo in avanti con il pallone sporcato dal recupero della difesa dell'Alitalia dunque corner per i biancorossi e i divillari biancorossi e i divillari che dopo il 2 a 2 avevano l'inerzia della gara dalla loro ma sono stati sorpresi dal destro di Masciangelo attenzione era il tocco sbagliato può ripartire ancora una volta l'Alitalia c'è forse un fallo così è e arriva anche il cartellino giallo per Balzani cartellino giallo e calcio di munizione batte Giordano Taroni che probabilmente si appoggerà ad un compagno in realtà sembra voler andare alla sventagnata lunga a cercare Masciangelo che con la testa forse un tiro forse una sponda il pallone si perde sul fondo però nulla di fatto dall'altra parte un errore in impostazione ma recupera il Gianicolo con il numero da parte di Balzani che apre sulla sinistra c'è lo sganciamento da parte di Merlonghi che però poi tocca per ultimo e dunque concede la rimessa con le mani all'Alitalia l'Italia che la batterà lungo la corsia opposta alla nostra postazione attenzione a Sascha Taroni chiedo scusa il tocco è per Bacchi rimpallato alla sfera allora la recupera il Gianicolo attenzione al pallone servito ora a De Santis che va al pallone messo in mezzo libera male la difesa dell'Alitalia e Severini fa 3 a 3 sul rivio sbilenco della difesa dei padrone di casa è lesso il numero 10 a indovinare la rasoiata che vale il nuovo pari ai biancorossi all'Italia calcio ed M servizi Gianicolo una partita che dunque continua e prosegue sulla falsa riga tracciata nel primo tempo attenzione ora ancora all'Alitalia il pallone in mezzo per Masciangelo lo sporca il Gianicolo e lo recupera Proietti che va la sventagliata lunga percorsi anticipato da un avversario allora la formazione in maglia verde con il numero di Taroni attenzione apre per Barillaro il numero 10 dalla destra va con una serie di dribbling che lo portano sul lato corto dell'aria poi c'è il ritorno della difesa del Gianicolo che dunque chiude in fallo laterale rimessa con le mani per Barillaro quasi all'altezza della bandierina del corner va per un compagno il pallone alzato sul secondo pallone non ci può arrivare Masciangelo e dunque si perde nel nulla questo affondo dell'Alitalia l'Italia sta facendo una grandissima partita e sta riuscendo a inchiodare sul tre pari il quotato M di servizio di Gianicolo che come dicevamo in precedenza è reduce dal pareggio maturato su questo campo nei confronti del Cotton Club attenzione ora a un fraseggio pericoloso che quasi lancia Severini il rimpallo poi premia l'Alitalia che si salve ora con Sascha Taroni va a impostare un nuovo tema offensivo il pallone è spostato sulla destra dove si propone la formazione in maglia verde una serie di dribbling di Novelli Novelli per il Gianicolo regola del vantaggio Balzani apre sulla destra attenzione Severini la mette in mezzo 4 a 3 e arriva il gol di Corsi ancora una volta il Gianicolo completa la rimonta e ora per la prima volta nella partita conduce sull'Alitalia e dunque M servizi Gianicolo che come diciamo in precedenza per la prima volta all'interno di questo match conduce sull'Alitalia con l'azione che era partita dalla galoppata di Novelli che sembrava potersi rendere pericoloso per l'Alitalia perde il pallone il numero 4 riparte un contropiede mortale del Gianicolo anche perché il gol arriva ad opera di Corsi che occupava proprio la porzione di campo lasciata libera da Novelli attenzione ora Barillaro attaccato da due avversari il tocco è per Bacchi che assolta va da Sascha Taroni che gli rende il pallone il numero 7 chiediamo scusa non il numero 2 va alla sventagliata lunga sulla quale Proietti fa buona guardia non era un pallone insidioso dunque con relativa calma l'estremo difensore fa ripartire il Gianicolo attenzione al tocco per Corsi che lavora con il corpo e porta a casa un calcio di munizione ancora una volta molto bravo ad agire da Pivò il numero 11 della formazione in maglia rossa e dunque 4 a 3 per il Gianicolo che dunque ora con Severini potrebbe cercare di incrementare ulteriormente il margine di vantaggio sulla L'Italia L'Italia che potrebbe anche subire il contraccolpo dell'1-2 dei Biancorossi dopo essersi fatto avanti per prima con Masciangelo l'1-2 firmato dal numero 10 Severini e dal numero 11 Corsi che conferiscono il primo vantaggio della gara al Gianicolo quando siamo arrivati al tredicesimo minuto del secondo tempo quindi 10 minuti abbondanti al termine della gara c'è il destro in porta e questa volta Calcaro vola a deviare in corner corner per il Gianicolo che sarà battuto come tutti i calci da fermo da parte di Severini che tocca corto per De Santis la controlla del numero 2 che rende il pallone al numero 10 attaccato da Taroni che gli tocca la sfera deviendogliela ancora una volta in corner dunque questa volta forse in realtà è rimessa con le mani se ne occuperà quindi De Santis e non Severini ma è il 2 lungo percorsi che si difende con il fisico dall'attacco di due avversari serve per Severini che incrocia un destro che termina sul fondo però strozza troppo il numero 10 e dunque nulla di fatto allo Sport City risultato che vede ancora il Giannico lo condurre per 4 a 3 sulla L'Italia L'Italia che ora con Sascha Taroni ricomincia dal fratello in maglia numero 7 che gli rende il pallone ma poi la sventagliata lunga per Masciangelo la mette Giubani il numero 11 che poi si deve vedere dal ritorno di un avversario ancora Masciangelo chiedo scusa era Bacchi sembrava Masciangelo comunque buono il lavoro di Bacchi che però poi termina a terra se ne va anche con una certa eleganza la terza linea del Giannico che poi però sul rinvio lungo perde il pallone è irregolare il ritorno di Corsi sul pallone nello specifico su Giordano Taroni e dunque calcio di punizione per l'Alitalia che ha una decina di minuti abbondanti per cercare quantomeno di trovare un pareggio che saprebbe comunque disconfitto o comunque lascerebbe l'amaro in bocca attenzione proietta in qualche modo e poi completa il disimpegno la difesa dell'M Servizi concedendo una rimessa con le mani da posizione comunque avanzata all'Alitalia perso il pallone dai ragazzi in maglia verde attenzione a Severini puntato da due avversari c'è dall'altra parte tutto solo De Santis lo vede il numero 10 De Santis però traccheggia con il pallone tra i piedi lo serve al numero 16 Pasciente poi transita tra i piedi di Ciuffa e poi sull'auto di sinistra la sfera e dunque Gianicolo che ora riesce a giocare con tranquillità anche a causa di un pressing non altissimo dell'Alitalia attenzione ancora ai ragazzi in maglia bianco-rossa che perdono la sfera può ripartire il numero 10 Barillaro per l'Alitalia sbaglia tutto però Barillaro questa volta voleva nelle intenzioni premiare lo sganciamento di Sascha Taroni in realtà serve un pallone troppo lungo per tutti il numero 10 autore comunque di un'ottima prestazione qui allo Sport City attenzione ora al tocco di testa per Corsi che si difende dall'attacco di Taroni il tocco è ancora per un compagno il pallone che dalla sinistra voleva essere messo in mezzo l'ultimo tocco è di Severini e dunque non c'è nemmeno il premio di consolazione per l'M Servizi Gianicolo mentre dall'altra parte può ripartire l'Alitalia il tocco è per il numero 9 Andreuccioli stavolta ricomincia da Barillaro ancora i ragazzi in maglia verde con Sascha Taroni il tocco è per Andreuccioli messo a terra senza troppe esitazioni da parte di Pasciente dunque calcio di punizione per l'Alitalia quando siamo arrivati al sedicesimo minuto nella ripresa e dunque con l'M Servizi Gianicolo avanti per 4-3 i tiri da fermo potrebbero rappresentare una valida una valida arma per l'Alitalia per cercare di pervenire al gol del 4-pa di pareggio che per quanto visto sul campo fino adesso sarebbe anche forse il risultato più giusto per due squadre che hanno giocato sempre a viso aperto sul punto di battuta il numero 8 Sascha Taroni andrà lui con il destro in porta il pallone scende troppo tardi dunque nulla di fatto ha provato il piazzato il numero 8 senza trovare lo specchio delimitato dai tre legni della porta dunque difesa da Proietti Proietti che ricomincia giocando il pallone corto per un compagno poi c'è l'intervento di Bacchi fuori tempo su un avversario anche in questo caso indiscutibile la chiamata del direttore di gara con il pressing di Bacchi eccessivamente il pressing di Bacchi irregolare attenzione ora al pallone giocato dal M Servizio Gianicono nella propria terza linea cioè il pallone spostato sulla sinistra può attaccare da quella parte dove ha un varco la formazione maglia bianco-rossa prontamente chiuso dal recupero di Bacchi allora però c'è un errore che dunque frena la possibilità di contropiede dell'Alitalia mentre dall'altra parte Calcaro chiude la porta in faccia a Corsi ancora il pallone giocato in aria ancora Calcaro su Corsi tiene basso il pallone si continua a giocare con Pasciente che la controlla apre sulla destra Severini è scoperta l'Alitalia attenzione Calcaro con l'aiuto del palo si salva la formazione in maglia verde Andreuccioli viene messo a terra calcio di punizione per l'Alitalia già battuto il calcio di punizione allora Barillaro si propone in posizione dalla sinistra subisce fallo e dunque la punizione ancora una volta per l'Alitalia attenzione a Sascia Taroni le finte perde per un attimo la sfera la perde nuovamente allora può partire solo per un attimo Severini attenzione un'altra ingenuitua questa volta di Taroni c'è il fischio del direttore di gara salva l'Alitalia in questa circostanza attenzione ora Andreuccioli il tocco forse è corto così è vediamo se ci arriva in ogni modo Bacchi così è ricomincia da un compagno il tocco è centrale per Taroni che è stato il primo avversario non il secondo cioè comunque fallo sul numero 8 Sascia Taroni che dunque va alla battuta di un altro calcio di punizione da un paio di metri anche più in posizione più arretrata rispetto alla porta di Proietti mentre torna sul terreno di gioco per l'Alitalia Nicola Masciangelo dunque cercherà di sfruttare i centimetri e la bravura dei tanti numero 11 per l'assalto finale la formazione in maglia verde va Taroni in area di rigore spazza la difesa del Gianicolo ci sarà quindi rimessa con le mani per l'Alitalia se ne occuperà ancora Taroni se non abbiamo visto male così è ricomincia da un compagno ancora Sascha Taroni alza la testa va al lancio lungo per Masciangelo che ancora una volta cerca una sponda che non riesce era distante in questo caso anche Andreuccioli mentre c'è il recupero della difesa dell'Alitalia sul Gianicolo dunque un altro pallone per la formazione padrona di casa con Barillaro che apre sulla destra dove Ligios è anticipato dal recupero dell'M Servizio rimessa con le mani per l'Alitalia c'è il tocco di Taroni leggermente impreciso si continua a giocare Andreuccioli col destro non trova la porta viene chiamato anche un time out dalle panchine dunque ci fermiamo per qualche istante si sta per riprendere a giocare allo Sporzi di Rigoria dopo un primo tempo spettacolare e un secondo tempo che non denude le attese l'M Servizio Gianicolo conduce per 4 a 3 sulla L'Italia attenzione al lancio lungo arriva ora il numero 5 Ligios che controlla va da un compagno c'è un dribbling che non riesce allora può ripartire il Gianicolo solo per un attimo dall'altra parte il destro di Taroni che cerca di sorprendere Proietti trovando il gol della domenica non riesce il numero 7 a tenere basso un pallone che si perde di parecchi metri altro sopra la traversa del numero 1 dell'M Servizio che va a rinvio con le mani recupera e intercetta il centrocampo dell'M Servizio Gianicolo c'è il pallone spostato su Pasciente che ricomincia da Proietti Proietti non benissimo il rinvio al suo campanile pericoloso il pressing di Anderuccioli su Balzani è però falloso e dunque calcio di punizione per l'M Servizio Gianicolo quando mancano 5 minuti più recupero al termine della contesa qui allo Sport City di Trigoria e dunque l'M Servizio Gianicolo conduce per 4 a 3 sull'Alitalia e vincendo si porterebbe a quota 27 punti in classifica agganciando temporaneamente la Ragnatela attenzione al pallone lungo percorsi è bravo Calcaro però a leggere le intenzioni del numero 11 a far sua la sfera dicevamo Gianicolo che vincendo aggancierebbe la Ragnatela e supererebbe gli Ammers Ammers e Ragnatela ovviamente che devono disputare la propria gara mentre c'è un sinistro deviato che però non arriva dalle parti di Proietti il pallone si perde poi in fallo in calcio d'angolo calcio d'angolo che sarà battuto da Andreuccioli con l'interno del piede destro mischia in area di rigore pallone basso c'è un tocco che però non riesce a essere indirizzato verso la porta del Gianicolo e dunque Taroni scambia con un compagno Sascha Taroni in maglia numero 8 dovrebbe essere stato il 7 a rendergli il pallone c'è il velo che però viene intercettato dalla difesa del Gianicolo Corsi tocca per il Balzani può distendersi in controvedere con Severini l'emme servizi Gianicolo attenzione superiorità di numerica degli ospiti vediamo se la sfrutta sembra non essere così però perché recupera il numero 5 Ligios che subisce anche fallo poi l'Italia guadagna almeno 6 o 7 metri e ovviamente viene richiamata all'ordine dal direttore di gara attenzione al pallone spostato su Barillaro che cerca di saltare secco il primo e De Santis non ci riesce va da Sascha Taroni che però ha lo stesso problema con la differenza però che si fa far fallo da Balzani e allora calcio di punizione per l'Alitalia Taroni va al pallone in area di rigore spazza Pasciente ancora Alitalia in avanti attenzione a Taroni che ricomincia da Giordano Taroni che va al lancio per la girata di testa da parte di Masciangelo fa buona guardia Proietti che poi trova un gran rinvio per Severini che ha qualche difficoltà nel controllo e concede il pallone all'Alitalia attenzione a Ligios taglia il campo per vie orizzontali scarica Sascha Taroni contrato dai calciatori del Gianicolo può partire il contropiede del Gianicolo poi però c'è un intervento del direttore di gara e un cartellino giallo fallo tattico dell'Alitalia quando siamo arrivati al ventiquattresimo minuto del secondo tempo e il l'M Servizi Gianicolo conduce per 4 a 3 sui ragazzi in maglia verde mentre vediamo tornare sul terreno di gioco il numero 15 Merlonghi insieme a un paio di altre sostituzioni concretizzate nei minuti finali attenzione dunque al pallone che verrà presumibilmente servito sulla sinistra chiude l'Alitalia allora Sascia Taroni in mezzo a 2 riesce a iluder nell'intervento aprire sulla sinistra dove può sganciarsi la formazione in maglia verde c'è il pallone lungo per Masciangelo c'è fallo c'è fallo sul numero 11 dunque calcio di punizione per l'Alitalia vertice di destra guardando dalla posizione di proietti vertice di destra dell'area di rigore sinistro si è valutato dalla nostra postazione sul punto di battuta come al solito Sascia Taroni che potrebbe provare indifferentemente la battuta verso la porta di proietti il pallone dell'Ave Maria all'interno della tonnare che si viene a creare in area di rigore 4 gli avanti della formazione in maglia verde 4 quelli in barriera 3 a difendere l'area di rigore più proietti ovviamente pronto a metterci le mani attenzione anche a Giordano Taroni in posizione di sparo ma probabilmente il numero 8 Sascia Taroni andrà al destro in porta quando siamo arrivati al 25esimo minuto del secondo tempo parte il tocco in realtà per Taroni che va al destro e si oppone a proietti salvando il risultato poi si continua a giocare il pallone termine un fallo laterale battuta la rimessa attenzione dalla destra il pallone messo in mezzo teso non ci arriva Masciangelo può ripartire il Gianicolo attenzione a De Santis che elude l'intervento di un avversario poi sbaglia la misura del pallone lungo che allora Sascia Taroni invita i compagni a salire tutti in area di rigore attenzione al pallone della Vemaria giocato lungo spazza la difesa del Gianicolo e poi il tocco è di un calciatore in maglia rossa allora ancora Anderuccioli frenato da Pascento Anderuccioli messo a terra altro calcio di munizione contesa che si fa rovente allo Sparsiti attenzione comincia a sentirsi il peso di una partita appesa a un filo scusate il gioco di parole è un filo molto leggero che per buona parte è nelle mani di Broietti che dovrà fronteggiare un altro calcio di punizione ancora una volta Taroni sul punto di battuta quest'olta si avvicinano anche Barillaro e Masciangelo che in questo momento si allontana Taroni dopo aver servito il calciatore in maglia numero 7 Giordano Taroni quest'olta sembrerebbe voler andare alla conclusione ma ancora una volta si defila un calciatore non visto dai calciatori del Gianicolo attenzione al destro in porta di Taroni proietti con i pugni si continua a giocare spazza in alto la difesa del Gianicolo mentre Calcaro alza un campanile col mancino il pallone rimbalza sul corpo del calciatore in maglia numero 18 della Litaria dunque la rimessa è per il Gianicolo ma arriva ora il tripline fischio del direttore di gara al termine di una partita pirotecnica allo Sport City il Gianicolo si impone in rimonta per 4 a 3 sull'Alitalia